Salve maghi, babbani e maghi no, perché no, e benvenuti nel primo podcast dello Scrivacchieno. Ci sono molte prime volte nella vita ed è importante condividerle con una persona speciale. Il primo libro, il primo bacio, il primo podcast. Come quello che stai ascoltando, che voglio condividere con te, ovunque ti trovi. Benvenuto o benvenuta in questo podcast dello Scrivacchieno. Nell'inaugurare questa nuova tipologia di contenuti voglio proporti un argomento che mi sta particolarmente a cuore, la lettura. Nel podcast di oggi andremo a parlare di cosa ha rappresentato la lettura per me nel corso della mia vita, di come mi sono avvicinato ad essa e perché credo sia essenziale leggere il più possibile. Vorrei quindi cominciare con una domanda rivolta proprio a te. Ricordi qual è stato il primo libro che hai letto in vita tua? In questo momento mi sento molto come Forrest Gump, seduto su una panchina con gli occhi serrati nel tentativo di ricordare le prime scarpe che abbia mai indossato. Forse, se mi concentro, posso ricordare il primo libro che abbia mai letto. O forse no. Forse è una delle tante letture perdute nel tempo e nei meandri della mia memoria. Ricordo però un'infanzia scandita dalle tavole di fumetto, accompagnate dalle avventure dello sfigato Paperino, del fortunato Gastone, del vincente Topolino o dell'avaro Paperone. Mentre passavo la mia giovinezza viaggiando tra casa di mia madre e casa di mio padre, con la mente viaggiavo tra Topolinia e Paperopoli, rimpiangendo i vecchi tempi del Klondike e chiedendomi che sapore avessero le bombette divorate da Rocker Duck. Vedete, è buffo. Di tanto in tanto mi chiedo cosa potrei rispondere a quelle domande che sono soliti fare agli scrittori nei talk show. Di solito quando uno scrittore viene intervistato, gli viene chiesto quali siano le sue letture che l'hanno spinto verso la scrittura. E di solito ci sono sempre delle risposte fighissime, tipo George Verne con il suo viaggio al centro della terra o Emilio Salgari. Mentre io probabilmente devo gran parte della mia passione a Don Rosa e Karl Barks, a loro due, e a mia sorella Sara, la quale ha per prima colto la scintilla della lettura in un giovane scribachino e l'ha nutrita, donandomi libri e raccontandomi storie. La lettura con il tempo è diventata la mia fedele compagna, la porta che mi permetteva di fuggire da una realtà fatta di divorzi, di rabbia, di isolamento sociale, di inadeguatezza con il proprio corpo. Durante le elementari e le medie scoprì i piccoli brividi e lo stile inconfondibile di Robert Laurenstein, il quale avrebbe poi ceduto il suo posto, nel trono del mio cuore, alla Rowling e al suo Harry Potter, e ancora tutti gli autori che poi li seguirono. La lettura diventava una parte sempre più forte della mia vita, tanto da generare eventi paradossali. Mentre i miei compagni alle medie, ad esempio, si trovavano in auditorium a guardare l'ultimo dei moicani, io mi trovavo in sala insegnanti a leggere il libro di geografia. Per la passione per la lettura, chiaramente, ma anche perché, essendo il tizio più alto della classe, ero stato messo in fondo alla sala e non vedevo una fava. Ai tempi dei superiori, mentre le altre persone andavano in palestra per allenarsi, io la utilizzavo per avere un po' di pace e leggere sdraiato su una panchina dello spogliatoio. Da tutto questo ne ho ricavato un astuccio per le mie ali, certo, una buona dialettica e una pessima forma fisica. Non ho mai considerato la lettura un hobby o una passione, qualcosa che si utilizza per riempire momenti vuoti della giornata, ma a cui è possibile rinunciare in un momento di particolare impegno. Infatti, spesso si sente dire che per un lettore leggere è come respirare. Per quanto l'immagine possa apparire iperbolica, effettivamente è anche quella più coerente. Se non leggo durante la giornata, ad esempio, la sera mi ritrovo in apnea, con i bisogni di tirare una boccata d'ossigeno con un libro o un fumetto. Ed è stato così per la maggior parte della mia vita. Il liceo è stato scandito da libri che andavano arricchendo la mia libreria, talvolta recuperati addirittura dalla spazzatura, perché sì, ci sono persone che buttano i libri nella spazzatura, e da dei numeri di Dylan Dogg che la dipingevano di costole nere scritte gialle. Centinaia di numeri che rappresentavano una passione che era iniziata leggendo per caso un numero di Dylan Dogg lasciato nella casa dove era andata ad abitare mia madre dal vecchio inquilino. All'università, la prima cosa che ho arredato quando sono andato a vivere da solo nella mia camera in affitto è stata una libreria Billie dell'IKEA, con i libri che mi ero portato da casa con tanto di polvere della vecchia casa dei genitori. Vorrei poter dire che ho arredato la camera in modo diverso andando avanti nella vita, ma tristemente l'unica cosa che effettivamente rappresentava la mia camera nei due anni di università era proprio quella libreria. Quello, vedete, fu un periodo abbastanza strano, un periodo molto importante per la mia vita da scrittore, però in cui rischiai di perdermi all'interno della mia stessa fantasia. Vi spiegherò cosa vuol dire questa cosa qui in un altro podcast in cui parlerò proprio del mio rapporto con la mia immaginazione. Tornando all'argomento, perché credi che la lettura sia così importante? Curiosamente, questa è la domanda che mi pose la professoressa Adriana davanti alla sua classe delle medie, il giorno in cui tornai a trovarla dopo essermi diplomato. Tornare nella propria classe ad anni di distanza fu un'esperienza surreale. Tutto si era rimpicciolito. La porta, che un tempo appariva enorme dividendo la classe dal corridoio, ora permetteva appena il mio passaggio, perché ero cresciuto, chiaramente, ed ero arrivato alla mia tenera altezza di due metri. Quando entrai nell'aula, i ragazzi si voltarono verso di me e vidi uno sguardo di meraviglia dipingere i loro volpi. Credo che, realisticamente, molti di loro si aspettassero che tirassi fuori un ombrello rosa dalla tasca e dicessi loro che erano dei maghi e avrei consegnato loro la lettera per Hogwarts. Purtroppo, cari bambini, così come io ho dovuto accettare che non riceverò mai una lettera per Hogwarts. Così dovete raccettarlo anche loro. E infatti invece di parlare della loro ammissione nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, parlai della lettura. Impacciato come solo un ventenne che si ritrova all'improvviso tra i banchi delle medie e si dimentica del passaggio del tempo. Parlai a lungo, a giudicare dagli sguardi annoiati degli alunni, e dissi loro quello che sto per dire a te. Perché la lettura è così importante? Ci sono tante risposte a questa domanda, e personalmente le considero tutte giuste. Alcuni potrebbero dirti che è il modo migliore per espandere il proprio vocabolario. Passare dal conoscere mille parole a conoscerne centomila, con la possibilità di articolare un discorso in modo più ricco e profondo. Credo che la differenza sia quella dell'avere delle matite e dei colori primari, per un tuo disegno e una tua illustrazione, e averne centinaia che tocchino tutte le sfumature dell'arcobaleno. Sia la stessa differenza che si trovi tra un pianoforte trovato in una discarica con una manciata di tassi d'avorio e basta, e avere uno strumento con tutte le scale musicali nella loro interezza. La nostra mente, come diceva il buon Sheldon Cooper, utilizza il motore grafico più potente al mondo, l'immaginazione. E spesso la lingua, bardo che deve raccontare le storie concepite dal maestro cervello, non può farlo se non conosce le parole per comporre la rima. E proprio come il bardo, nei parti fantasy, anche la lingua è un concetto che molto spesso viene sottovalutato nella vita di tutti i giorni. Leggere, infatti, ti permette di affinare la mente, di accordarla se vogliamo, il che torna utile sia che sia tu a parlare o che sia qualcun altro. Alessandro Vanzoni ha fatto un esempio perfetto di questo concetto. Quando il pavido Don Abbondio tenta di invocare delle scuse per non sposare il semplice Renzo, questi lo accusa di utilizzare il latinorum. E oggi, tristemente, siamo circondati da Don Abbondi, spogliati della loro vesta religiosa, ma con la stessa capacità dialettica, i quali non si faranno scrupoli a sfruttarla per confonderci e circuirci. Lo vediamo nella politica, sui social, nei libri. Persone che imbrigliano la dialettica celando messaggi pericolosi al suo interno. Leggere ti permette non solo di fornire alla tua lingua, al tuo bardo, le rime di cui ha bisogno, ma distrugge anche la cetra del bardo nemico, prima che possa ingannarti con le sue canzoni. Ma questo è solo uno dei tanti vantaggi che derivano dalla lettura. La conoscenza alberga nella nostra mente più a lungo quando questa viene accolta e non forzata al suo interno. I libri diventano così una fonte di apprendimento sugli argomenti più disparati. Dal toccare con mano i campi di concentramento descritti da Primo Levi, allo scoprire la lotta partigiana per i sentieri dei nidi di ragno di Italo Calvino. Piuttosto che leggere una sfilza di date senza fine, può essere più interessante vedere un Giulio Cesare bambino grazie alle parole di Connie Golden, oppure scoprire il rapporto fra Alessandro Magno e il suo cane Peritas, nelle frasi di Valerio Massimo Manfredi. Possiamo imparare la nostra storia o creare mondi fantastici, spiare il futuro e filosofeggiare sulla vita. Per questo è essenziale che l'amore per la lettura si sviluppi in modo delicato, sensibile. L'errore degli insegnanti molto spesso nel loro desiderio di avvicinare i ragazzi alla lettura è quello di forzarla all'interno di menti che non sono pronte a compiere questo viaggio. Ed ecco che paradossalmente i libri diventano l'ennesima manifestazione della noia scolastica, tanto che un buon numero di persone non ne apre più uno dopo il diploma. L'amore per la lettura è un processo che si sviluppa gradualmente, senza costrizioni ed è diverso in ogni persona. Credo personalmente che l'aspetto più importante della lettura però sia il suo essere un tramite verso l'immortalità. Sui miei biglietti da visita che avevo stampato anni fa, quando ho scritto il mio libro di fatto, c'è scritta una frase abbastanza imbarazzante, ma che allo stesso tempo rappresenta perfettamente il mio approccio con la lettura. Sul retro, lontano dalle indirizzo email e dei contatti, ho scritto infatti Mi sono venuti i capelli bianchi a vent'anni. Non mi stupisce, per ogni libro che ho letto ho vissuto una vita intera. Immagino che questo mi renda il ragazzo più vecchio del mondo. Molto cringe come termine, molto cringe come discorso, ma abbastanza vero. Il concetto di visitare mondi meravigliosi e vivere vite alternative è molto spesso utilizzato per descrivere la bellezza della lettura. Ma spesso quella che viene data è un'immagine superficiale che non può essere colta da chi non ha questa passione. Ma ricorda sempre che tu legga un libro all'anno o duecento, la passione per la lettura non è un dono né un lusso. Non ci sono persone che sono destinate a leggere, persone a cui è proibito questo piacere. È qualcosa che si sviluppa nel tempo, che va nutrita ed accudita. Ed è personalmente la chiave per riscoprire con meraviglia il mondo che ci circonda. Dissi tutto questo ai ragazzi delle medie e la loro espressione mi disse che avevo fatto breccio nei loro cuori. La professoressa Adriana chiese se c'era qualche domanda e diverse braccia scattarono verso l'alto. Ah, che emozione ragazzi, che emozione. Mi guardai attorno pensando che forse aveva addirittura cambiato qualche vita con il mio discorso accorato sulla lettura. Mi voltai verso il ragazzo più vicino e gli feci scena di fare la sua domanda. E lui chiese emozionato, quanto sei alto? Quel giorno non ho fatto breccio nei loro cuori e dopo aver detto loro che la chiave dietro la mia altezza era una rieta di verdure e l'andare a letto presto, me ne andai e tornai alla mia vita. Così come non pretendo di fare breccio nel tuo di cuore. Proprio come la lettura, non puoi forzare il cuore di una persona ma sperare che esso ti accetti. Per questo e per non correre il rischio di sentirmi chiedere nuovamente quanto sono alto, credo sia il momento di giungere alla conclusione. Spero che questo primo e breve podcast ti sia piaciuto. Sicuramente potranno migliorare in futuro e qualcosa di nuovo per me. Ma ti aspetto la prossima settimana con il prossimo e ti ringrazio per il tuo tempo. Dallo Scribachino è tutto. Fatto il Misfatto.